Non posso, lo so, ti avevo detto, non posso, mi dispiace, non posso venire, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, sì, scusa, ma non puoi, scusa, si è arrabbiato. Ma chi? Ubaldo, il mio amico campione di golf, mi invita a giocare ogni volta più per un motivo o per l'altro, finisce che gli do buca. Buca? Sì, buca, non ci vado, gli do buca. E ora il campione di golf ha perso la calma. E certo, gli ho dato 18 buca. Ma tu hai mai pensato a fare sport? Come no? Eh sì? Eh, ho pensato a fare nuoto, però, sì, poi ho pensato a fare tennis, ho pensato a fare sci, sì, sì, penso, addirittura ho pensato di fare equitazione. Ma allora sei uno sportivo? No, un pensatore. Guarda quello al tavolo là, quello è uno sportivo. Andiamo. Buongiorno signore, come va? Salve. Affamato, eh, la vedo ben ben fisicato, è venuto a fare il rifornimento, hai nel posto giusto. Ok. Ok. Grande sport, te l'avevo detto, vai. No, 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 che fa? Che fa? Io non pattino. Ho capito, niente ghiaccio. Niente ghiaccio. Erba. The what? Sul prato. Oh, all right. Erba sul prato. Ok. Oh, che sul prato! Oh, po 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 Tutti fita avanti uorni. Tutti chiamam avantiée. Chiamam avantiée. Chiamam avantiée, chiamam avantiée, chiamam, chiamam. Chiamam avantiée. Chiamam avantiée. IcahIZ I Toni canto… CHILE R disciplines Tutte canto… F limitations Info Nicola, info Nicola, info Nicola, Yammer, 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 Yammer.